Cavesse, Brendis, Nardò e Barletta poi capiremo in quale ordine hanno ipotecato le prime quattro posizioni nel gironi H di Serie D, salvo clamorosissimi colpi di scena in pratica c'è solo un posto disponibile per completare la griglia playoff. Se lo contendono, Casarano-Team Altamura appaiate in quinta posizione in classifica, i salentini possono vantare una posizione di privilegio negli scontri diretti, hanno all'orizzonte un calendario, almeno sulla carta più agevole rispetto ai murgiani. A partire dai confronti di domani, tutti gli incontri della penultima giornata si giocano in contemporanea. Dalle ore 15 il Casarano ospita al Capozza un Francavelin sine che deve blindare solo dal punto di vista matematico la propria partecipazione ai playoff. Il team Altamura affronta sempre in casa un Molfetta che si gioca molte delle proprie possibilità di centrare la permanenza senza disputare gli spareggi. Domenica prossima per l'ultima giornata della stagione regolare invece Altamurani di scena a Nardo, salentini impegnati sul campo di un bitonto già abbondantemente salvo. Molto accese anche la lotta per evitare i playoff nel girone H5, le squadre concretamente coinvolte, soltanto due potranno brindare alla conferma della categoria. Già il 7 maggio, 90 minuti fondamentali sono quelli che attendono il Gravina impegnato al Torsi sul campo di un Martina che si è salvato sei giorni fa con la grande impresa al Simonetta Lamberti contro la capolista Cavese. Vincere significherebbe per la squadra di Raimondo Catalano a Corciara di una sua lunghezza, discorso che vale anche per i coinquilini del Molfetta, il margine dal dodicesimo posto, l'ultimo utile per non giocare gli spareggi. In virtù dello scontro diretto di domani fra Fragolese e Gladiator, le due pugliesi coinvolte nella bagarre faranno anche il tifo per il bitonto di scena sul campo della nocerina tredicesima della graduatoria. L'unica gara utile solo per le statistiche del penultimo turno è quella tra Matera e Fasano. Il Lavello invece deve battere in casa la putiolana già retrocessa per conservare una piccolissima possibilità di agganciare il Francavilla insieme per poi giocarsi lo spareggio di ammissione ai play-out.